Non ha sciolto le riserve la seduta di allenamento del venerdì alla nave sul modulo che gli Amaranto utilizzeranno contro la Piacenza. Tutti gli indizi però convergono su due opzioni. L'Arezzo contro i Piacentini potrebbe ripartire dal 4-4-2 che a Luca ha permesso di raggiungere il pari. Un modulo che permetterebbe a Sottili di sfruttare l'esperienza di Capitan Moscardelli in gol domenica scorsa e in buon momento di Alessandro Polidori. L'ex Rimini è in forma e per lui parlano i tre gol e tre assist forniti in queste prime giornate. In difesa i giochi sono praticamente fatti con Luciani, Sirri e Muscat che sembrano viaggiare verso la conferma. Da valutare se il mister si affiderà a Sabatino oppure ad un terzino con spiccati dote offensive come Masciangelo. La mediana sarà presidiata da Foglie e Corradi mentre sugli esterni toccherà nuovamente a Young e Arcidiacono in caso di 4-4-2. C'è infatti anche l'opzione 4-2-3-1 che però necessiterebbe dell'ingresso dal primo minuto di un trequartista come Erpen oppure come rientrante Grossi al posto di una delle due punte. Di buono c'è che Sottili è l'imbarazzo della scelta avendo tutti i giocatori della prima squadra a completa disposizione contro la propria cenza.